Buongiorno ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nostro nuovo video Oggi io e Federica vi faremo vedere i nuovi cambiamenti che abbiamo qui in casa Quindi 3, 2, 1, iniziamo subito Bene, il primo cambiamento ve li facciamo vedere Sono questi palloncini per tutta la sala Vi giuro ragazzi sono extra extra belli Bellissimi, mi piacciono tantissimo Vi giuro che piacciono a voi perché a me si piacciono un botto Ragazzi non poteva mancare una bellissima cosa natalizia Ovvero questo elfo con, aspettate Questi due alberi che si accendono Cioè con i led poi Cioè vabbè non me lo sto nemmeno a dire di quanto sono belli Li abbiamo comprati con i nonni Bellissimi Però ve li faccio vedere Li abbiamo messi qua accanto a questo elfo Per dare un po' di luce E vi giuro mi piace un botto Adesso vi farò vedere un altro cambiamento In casa Da talizio Che consiste proprio nelle nostre camere da letto Perché i nonni ci hanno dato gli stickers Da appendere alle pareti Queste qui sono tutte stelline Questa invece è una regna Qua c'è un pozzo di neve Molto bello E per non parlare La camera di Federica Ah e questi stickers Che ho attaccato di nuovo alla foto di Babbo Andiamo in camera di Federica Che ve li faccio vedere meglio Ciao Ok Vi faccio vedere Ah vabbè pure lei ha un cuore E lei ha attaccato tutto al suo armadio E però anche lei ha qualcosa di bello alla porta Lei ha l'albero di Natale Alcune stellini Una pallina Sempre un babbo Natale E un pupazzughine Un pupazzughine Brava Fede Poi Abbiamo Un'altra bella cosa Qui L'ultima Che è Non è proprio un cambiamento Questa Che è una nuova decorazione per l'albero Ma soprattutto Oltre ai regali Abbiamo anche fatto La letterina Per Babbo Natale Che adesso vi andremo A leggere Vetterina per Babbo Natale Da te Vorremmo L'apriamo E vediamo Che cosa abbiamo scritto Caro Babbo Natale Questi regali Sono i regali Che vorremmo da te Da mamma e papà Un trenino per Federica E da Greta Degli stivali Sì Voglio gli stivali E da nonna Giovanna E nonno Carlo Dei vestiti per me E per Federica È biologica Sì Da nonna Franca E nonno Lorenzo Vorremmo dei vestiti Aspetta Dei vestiti per me E una bambolina Per Federica Che è già arrivata Poi dalle zia a zia Della zia mini Vorremmo Tanti altri vestiti Ci piacciono i vestiti E una telecamera Sì Perché ragazzi Quando avrò la telecamera Del lavoro Farò A sui video Con la telecamera E potete vedere Dei video Con una qualità più alta Dei vestiti Una telecamera Degli stickers Per Federica Da Zia Manuel E Zio Christian Delle scarpe Da ginnastica E dei colori Per Federica E poi Per non scordarsi Della macchina Della verità Che però No mia Però Ci giochiamo tutti Ci giochiamo tutti Che È già sotto L'albero Quindi Questa qua Il regalo più piccolo A questo mio Il regalo più grande È quello di Feder Quindi ragazzi Speriamo che questo nostro video Vi sia piaciuto Lasciatemi un bel like Iscrivetevi al canale E attivate la campanellina Ciao 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 Ciao